. Benvenuti a Fascia in Curta, a Rucchi che ne scolta su. Queste la neves del Comune Generale di Fascia per la puntata di questa settimana. La neva devaluta per il Comune di Soraga. Con la legge regionella dai 2 di Fire del 2017, il Comune di Soraga muterà si in Homme. Il Soraga diventerà Soraga di Fascia. La mutazione dell'In Homme la vennerà fatta a demotte alla versione italiana, a sacche per la DIN e le resta sempre il medemo. Tutti questi hanno dato la deliberazione del Consiglio di Comune dai 20 Neves di Fire del 2016, con quella che, a una, tutto il Consiglio si ha preso a favore e incontra la proponente demodazione dell'In Homme. La ragione di questa decisione è la sede al Dandut di Sor Turistica, che ha spiegato l'onvolto Davy Brunel. A Pontin, questa decisione già darà al metà i guest di riconoscere Soraga subito da un Paese di Fascia. E, tra pede, il Paese la rama o rluster sui sistemi automatici che devono essere sul web. Già viene ricordato ai residenti che non fanno bisogno di mudare i documenti, e, con questa questione, l'onvolto di Soraga, Davy Brunel. Stolz di questa decisione che giudice il metà il Paese di se neve in verso il turismo più globale. Insieme al Consiglio del Comune abbiamo deciso di mudare il nome di Soraga in Soraga di Fascia, soprattutto per una questione di visibilità turistica. Quindi abbiamo un paese che, diciamo, se il nome tagliante di Soraga veniva aggiuntata in città di Fascia, e il Dagea assicura, ma ora mette la domanda delle nostre aziende, sia artesane che alberghiere, deve far conoscere di essere più leggi alla Val di Fascia in sé. Chiaramente, voglio precisare una cosa. Non cambia neanche perché riguarda il nome Ladin, perché per Ladin resta sempre Soraga, perché tutti lo conoscono e lo conoscono fino adesso. cambia, diciamo, la versione italiana e quindi, diciamo, si passa da Soraga a Soraga di Fascia. La Chioinant come mudamento grosso non sarà, nel senso che vennerà mantenuto per due documenti in corso di validità che le riportate sul documento, vennerà a mudare il documento, ma anche il documento che sarà scaduto e vennerà, diciamo, fatto da NIF. In Txekestan, il servizio socioassistenziale del Comune General di Fascia indrezza la vacanza stravardede oltre alla azienda di Fascia che abbia queste caratteristiche. Sente che sempre vanno del servizio di assistenza accesa. Sente con impedimenti, gesso dell'accesa di pausa e delle altre strutture residenziali. Sente segnalata dai servizi sociali. Sente che la ete situazione del desese e sola a quella che una vacanza stravardeda la ha ideutol, a ciò che la possa starmi e perché che la abbia e miglioramente la relazione con i etres. La vacanza stravardeda la vennerà in Drezcedat e l'hotel Debora del Milano Marittima, del Trat de Temp da in vender ai 26 de me del 2017 e insin a in vender ai NEF des UGN 2017. Chi che ha interesse? Per chiamare il servizio socioassistenziale al numero 04-12-14-297. Seppelsen sinuer dai 30 de Merts ai NEF des UGN 2017. Vennerà a metto in dosi il ProSET Mobilità Gratuita di Europa Servizi S.p.a. Degrà agli operatori economics. Per questo vennerà a rinnovare la concessione per il meso attrezzato per i trasporti sociali. Deve il paio di Nervar da su. Vi ricordo che potete vedere in doc questa puntata i 12 Programmes per la DIN di TML sul nostro canale YouTube Programmazione Ladina.